Salve a tutti, sono Michele Pietravalle, lavoro per 4ISP, provider di cui sono socio qui di Venezia. Qualcuno di voi mi conosce già per il talk di ieri o perché mi ha visto giocare con Tesla ieri sera, quindi mi occupo di un po' di cose collaterali. Questo talk, un talk che avevo presentato a giugno di quest'anno in occasione di tutt'altro evento, però visto che comunque era piaciuto l'ho provato a riproporre qui all'ESC, visto che magari è un target di riferimento un po' diverso. Questo è un talk non probabilmente tecnico, era un talk più indirizzato a un pubblico marketing, commerciale, quel settore lì che però aveva dei riferimenti tecnici abbastanza carini. Titolato I cambiamenti del traffico internet in seguito all'evoluzione del mercato dello streaming. Cioè, cosa vuol dire questo? Negli ultimi anni, come ben sapete, sono nati tutti gli ultimi, abbastanza anni, ormai tutta una serie di servizi, quali Netflix, SkyGo, Megavideo, tutte quelle cose tutte legali e illegali che ci sono in giro. Come hanno influito questi servizi? Livello provider, quindi cosa posso accorgermi io che è cambiato negli ultimi anni? Proviamo a vedere questi quattro grafici qui. Sono quattro grafici, sono riferiti a Giundo, non mi ricordo neanche quando erano, però sono quattro grafici del traffico di peering di quattro internet exchange, tre grossi, uno piccolo. Cosa possiamo vedere? Possiamo vedere una cosa abbastanza interessante. La freccia indica su tutti i grafici all'incirca le ore 20 dello stesso giorno. Cosa succede verso le ore 20? Vedete il traffico, chiaramente, dalle 5 del mattino circa, dove è il picco minore, sale, 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 poi si stabilizza e poi se vediamo c'è sempre attorno alle 20 questo picco abbastanza evidente. Vedete, questi sono grafici con scale completamente diverse. Qui stiamo parlando una scala in gigabit per secondo, qui stiamo parlando, per dire questo è un 50 gigabit per secondo, qui stiamo parlando in terabit per secondo, questo grafico è di 4 terabit per secondo, questo è in 300 gigabit, questo addirittura in megabyte, qui stiamo a 200, adesso non leggo bene i rocchi. Però tutti presentano questo andamento particolare verso l'ora di cena. Cosa vuol dire questo? Semplicemente vuol dire che la gente arriva a casa da lavoro, si mette a mangiare e comincia a guardare qualcosa in streaming dopo cena, durante la cena. Una cosa abbastanza interessante, vedete i grafici sono, non dico sovrapponibili, però presentano tutti la stessa curva caratteristica. Guardandolo sul ambito non più giornaliero, questo è un ambito giornaliero, questo è un ambito settimanale, vediamo che l'andamento bene o male c'è tutti i giorni. La freccia in realtà ha indicato una cosa abbastanza più evidente. vedete, sono tutti più o meno allineati, qui c'è un picco, il corrispondente sempre all'incirca a quell'orario, molto importante. Ricordo che la scala è in gigabit, quindi c'è stato un incremento di circa 50 gigabit per secondo in questo momento, in questo particolare fascia oraria, del giorno 14 giugno, quel che era. Cosa è successo secondo voi in quel momento? Semplicemente è successa la partita Belgio-Italia. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che quando una volta la gente guardava la televisione, la guardava così, ascoltava la radio così. i vendor, o comunque i provider di servizi principali dell'epoca, chi erano i soliti, quelli classici, qui non messe qualcuno a caso. Come si sta evolvendo invece adesso? Si sta passando da questi device qui, a questi device qui, per vedere il mio audio, il mio video, il streaming. E i vendor quali sono? Siamo passati da quelli di prima, che sono i classici provider televisivi, a questi, qui ce ne ho messi un po' a caso. Comunque, giusto per rendere l'idea. Quindi il mercato si sta cominciando, si è spostato nettamente da una dimensione, chiamiamola analogica, a una dimensione digitale. Cosa impatta questo? Sicuramente impatta a livello fisico, perché se io per vedermi la televisione analogica, o comunque digitale terrestre, con qualche differenza trascurabile, avevo bisogno di questo lato provider, quindi lato ripetitore, e questo lato utente, come si è evoluta la situazione? Lato utente, adesso, per vedermi il mio flusso in streaming, la mia partita, il mio film, il mio, quel che vogliamo, non ho più bisogno di questa infrastruttura qui sopra. Ma bensì, ad esempio, ho bisogno di queste due infrastrutture, il mobile, il movimento e il fisso. Questo è uno degli obrobri che avete visto probabilmente in giro per tutte le vostre città. Se io fossi il comune, non avrei mai autorizzato una schifezza del genere, piuttosto fai un buco, metti uno shelter sotterraneo, stagno, e mettimi lì dentro. Qui a Mestre, io faccio riferimento di Mestre, ogni 200 metri ci sono queste cose montate in mezzo al marciapiede, davanti al cancello, proprio dove gli appareva. Questo quindi ambito fisso, questo in ambito mobile. E lato invece, non più lato utente, ma lato provider, si è passati da avere questo e tutto quello che riguardava regie, eccetera, sostanzialmente a questo. Quindi non abbiamo più infrastruttura distribuita sul territorio, ma bensì aveva un'infrastruttura centralizzata, chiaramente di streaming. E cosa cambiava sostanzialmente? Una volta c'era una piccola quantità di contenuto a disposizione. Il programmatore del canale televisivo, programmatore non sviluppatore attuale, chiaramente programmatore quello che faceva i programmi, aveva il suo bell'archivio di nastri, di quello che volevate, prendeva, decidevano cosa mettere, e ti facevano una possibilità di vedere quel programma, quei due programmi, quei tre canali. Adesso invece cosa cambia? Adesso sostanzialmente tutto è disponibile, è l'utente che va a decidere cosa vedere. Quindi cosa è cambiato a livello informazioni? Sostanzialmente che prima avevo un flusso, che fosse stato analogico, digitale, quello che volete, televisivo, che mi faceva l'uscita, l'applink, dallo studio di trasmissione, fino al ripetitore, fino all'utente. Adesso chiaramente i flussi sono diventati centinaia, migliaia, milioni, perché ovviamente ogni operatore, ogni utente va a sceglierci quello che si vuole vedere, e sicuramente non coinciderà con quello che sta guardando un altro, con tutte le dovute eccezioni per ottimizzare lo spazio. Quindi lato utente, lato provider, siamo arrivati a questa situazione. Lato utente, quindi provider verso utente, non abbiamo più le antenne, abbiamo quindi le colonnine che vi ho fatto vedere, e lato invece, ultimo, miglio, chiamiamolo così, verso l'utente, abbiamo cosa? Nell'ambito fisso abbiamo visto le colonnine cablate, ambito mobile abbiamo questo, BTS, quello che c'è ma non si vede, perché il mio cellulare in tasca, vado in 4G, mi fa i miei 40 megabit al secondo, non so neanche quanti ne faccia, che bello, funziona, sì, come dico a tutti io che lavoro in ambito wifi, sì, Wives è senza fili, ma non perché i fili non ci sono, perché i fili li ha qualcun altro, io in questo caso, l'operatore in questo caso. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che per rendere scalabile l'infrastruttura mobile, cosa devo fare? sostanzialmente devo portare fibra e mettere apparecchiature di questo genere, lato utente, copertura è anche tutto sommato limitata, qui per chi è di Mestre c'è una mappa dell'ARPAV, con copertura di un ABS cellulare. Quindi, giusto per capire, questo sempre su Mestre, è la mappa dell'EBS, sempre dal sito dell'ARPAV, dell'EBS di, non mi ricordo se tutti gli operatori o solo alcuni, posizionati, vedete, cioè, ci sono una marea di, di S, per potermi fornire la connessione. Quindi c'è tutto un mondo, dietro al, guardo il, il film streaming sul cellulare, che l'utente finale neanche si accorge, neanche sa che ce l'ignora completamente. Quindi cosa vuol dire? sostanzialmente vuol dire tanti dati, tante celle. Questa è un, la foto ho fatto io qualche giorno prima della presentazione in montagna, in Sardegna, dove abbiamo dei ripetitori, nel giro di un anno e mezzo si sono aggiunti, questo è il nostro treliccio, wifi per l'anno, e si sono aggiunti questi, 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 perché ho bisogno di portar banda, devo fare celle più piccole, e devo portare molte più BS per lo stesso, per lo stesso tipologia di servizio. Facciamo due conti proprio grazie. Netflix, che è quello che ha i dati pubblicati un po' più cari, ha quattro qualità, bassa, media, alta e ultra HD. Cosa influisce questo di, su cosa, te la faccio trasferimento io verso i server in Netflix? Lo faccio circa 0,3 gigabyte per ora, byte, non bit, me ne comando, vuol dire che io mi guardo un'ora di film, faccio 300 euro di megabyte di traffico. Qualità media, che in realtà vuol dire SD, il media si riferisce a un SD, quindi il televisivo normale, per fare un riferimento, quasi un gigabyte, un gigabyte per ora. Alta qualità, siamo a 3 gigabyte per ora, e ultra HD, 7 gigabyte per ora. Quindi abbiamo un numero di traffico che andiamo a spostare, che è davvero importante, che non ci andiamo neanche a immaginare. Facciamo due conti un po' più veloci. Mi guardo un film in streaming, siamo a 6 megabit per secondo, circa, molto spannometrico. Vuol dire che io avrò 6 megabit che arrivano al mio router. Facendo una stima di quanti utenti ci possono essere collegati per una centralina di un operatore, di una strada, di una zona, viene fuori un conto che siamo a circa 384 megabit per secondo, che escono complessivamente dalla mia cab. Chiaramente, le cab sono circa 100 per centrale, quindi un piccolo quartiere, eccetera, vuol dire che la mia centralina, la somma delle mie centraline della città, fanno verso la centrale di raccolta 3 gigabit per secondo, semplicemente con un po' di utenti che alla sera guardano via internet. Bene, 3 gigabit, un quartiere, un piccolo quartiere, non stiamo parlando di un palazzo dove magari abbiamo solo lì 200 persone che lo guardano. E verso Netflix invece, chiaramente, boh, chiaramente dipende da un milione i fattori. Questa vignetta è abbastanza significativa. Bene, adesso ho risolto il tuo problema di banda. Ok, chiaramente non è la soluzione che si può adottare, perché io Netflix, io, non so, Spotify, dico a caso, non posso avere un tubo grosso così che mi porta internet nel mio data center. Sì, lo posso avere, lo devo avere ovviamente, ma non è la soluzione che mi permette di scalare numericamente il problema della capillarità degli utenti. Qual è la soluzione che è andata ad applicare per esempio Netflix? Ho preso Netflix non perché sia collegato a loro in nessun modo, anzi, ma semplicemente perché è quello che ha i dati pubblicati più chiari. la soluzione di Netflix è il classico Appliance, loro chiamano Open Connect Appliance, e mi pare un 5 unità REC. In 5 unità REC sono riusciti a farci stare una marea di roba perché ci sono 36 hard disk da 8 terabyte più 6 da 1 terabyte alzato soldo più tutta una serie di cose loro, e questi cosa fanno? Semplicemente sono i classic cache server come li ha Google, come li ha HMI, come li hanno praticamente tutti quelli che fanno content delivery. Quindi cosa si dice? Io invece di portarmi operatore 1000 terabit di banda nel mio data center da qui faccio la distribuzione di tutti, faccio il push periodicamente dei miei contenuti su questi dispositivi sparsi in giro per il mondo dove chiaramente si vanno a mettere nei punti o nei grossi provider o negli internet exchange quindi dove vanno ad afferire i provider in modo che io mi occupo solo della primo livello di distribuzione e poi verso l'utente si occupano questi apparati. Qui abbiamo 296 terabyte di spazio disco che è quello che Netflix ritiene opportuno per avere tutti i contenuti più in uso chiaramente perché non vado perché non vado a farmi tutto il deploy tutto il Netflix di contenuti in uso vicini al cliente come faccio ad averlo questo se sono un operatore un provider un ESP semplicissimo basta chiederlo se ho almeno 5 gigabit di traffico medio verso Netflix compilo il form aspetto un po' di giorni mi arrivo a casa questo beggio cattolo chiaramente dopo avergli firmato mille carte che non vado ad aprirglielo smontarglielo distribuirgli i contenuti cose che chiaramente sono deplorevoli e noi non faremo mai purtroppo non ne avevo uno altrimenti l'avrei portato qua si te lo porto te lo cambiano in blocco lo so infatti lo so benissimo bene quindi questa cos'è la soluzione sì come c'è questo c'è la soluzione questi erano i primi che ti dava Google nei tempi andati adesso non so neanche se Google ti dia più sta roba o cosa Akamai fa la stessa cosa anche questo sono foto da archivi antichi hanno ancora il flop questo è giusto per capirci bene detto questo io risolvo il problema operatori io sono il mio operatore legale dove per legale intendo utilizzato è autorizzato Skygo pago i diritti tutte le solite cose che chiaramente noi siamo perfettamente d'accordo che bisogna fare e tutti gli altri cosa succede probabilmente tutti voi conoscete Megavideo tutti quei bei servizi di streaming non proprio compliance ai diritti d'autore e quelli e questo i PTV prova ora hai ben 4000 film serie tv on demand tutto in streaming hai Sky hai tutti i canali possibili del mondo hai premium hai anche il test gratuito se lo vuoi provare non so se li conoscete li pagate tipo 15 dollari al mese 30 dollari al mese secondo il servizio che volete e vi danno praticamente tutti i canali premium premium intesi non premium come operatore ma tutti quelli i streaming i PTV questo chiaramente è quello che che scappa perché ho chiaramente io operatore di questo servizio che ho i miei server in non voglio sapere dove non posso andare a darti il mio appliance a casa tua eh guarda che così i tuoi utenti pirata scaricano meglio internet questo è il problema fondamentale perché è il problema fondamentale perché scappa dei sistemi di ottimizzazione non è cacheabile non si sa da dove arriva quindi magari arriva da un operatore sperduto passa per il mio piding a 10 megabit invece che per quello a 10 gigabit non si può organizzare è un po' problematico giusto per capirci io ho fatto scusate stavo guardando una piccola analisi velocissima che avevo fatto io del traffico di uno dei miei operatori in ambito serale se non mi ricordo è passato un po' di tempo avevo tirato giù avevo dampato circa 674 gigabyte sono gigabyte sono questi di traffico in streaming questo è un netflow che cattura tutto quello che passa su 700 gigabyte è un'analisi questa mi ha fatto un po' preoccupare perché semplice flash lui identifica tutto quello che è megavideo eccetera quindi quando apro la mia paginetta web mi guardo il film in streaming via flash 24% è tanto sopcast che qui non lo chiamo sopcast ma non è quello che avevo voglia di giornali di etichette sopcast qui intende tutto quello che avevamo visto prima qua dentro 69% quindi 70 più 24 fa 94% streaming 3,1 questo mi cattura tutto quello che è traffico legale quindi youtube quindi skygo quindi quelle cose là è impressionante questo numero se ci pensate questa è una rete di un buon migliaio di utenti circa complessivi e un provider in centro Italia non possiamo stare in nome comunque che ha solo utenti residenziali non penso abbia nessun utente business questo è interessante questo numero perché vuol dire che la situazione ci sta un po' sfuggendo di mano da quel punto di vista dimmi giugno questo quindi giugno di quest'anno quindi decisamente dopo l'arrivo di di Netflix non so se qui ho beccato magari l'unico momento in cui tutti stavano guardandosi l'ultimo film appena uscito su Megavideo potrebbe anche essere come dicevo una cattura fatta al volo giusto per fare la slide magari se faccio una cattura su un ambito un po' più ampio di una settimana vengono fuori numeri decisamente diversi e questo non lo so è un numero che l'ho visto per caso mi è saltato l'occhio e ho messo una slide bene e che impatto ha tutto ciò per il futuro soprattutto questo è un'analisi fatta da Cisco che prevede l'andamento nei prossimi 3-4 anni circa dove Digital Media Adapter intende il numero di dispositivi connessi che mi possono fare streaming vuol dire tutto vuol dire Apple TV vuol dire Raspberry tutto quello che è connesso e mi permette di fare streaming in ingresso il numero da 2016 al 2020 vedete è praticamente non dico raddoppiato ma stiamo passando a 141 milioni di dispositivi e 242 milioni fatto importante guardiamo dell'impatto del traffico questo è un traffico in realtà aggregato come potete vedere stiamo parlando dal 2016 diciamo circa 80 al 2020 stiamo parlando circa 180 cosa esabyte per mese quindi questo cosa vuol dire vuol dire sostanzialmente che per il futuro sicuramente bisognerà puntare di più sul delocalizzare il traffico per dire quello che sta facendo Telecom ha fatto Telecom per chi è informato un anno fa cos'è un anno fa che ha fatto due euro anni fa ormai che ha fatto The Peering va in direzione decisamente contraria di questo perché chiaramente chi è un fornitore di servizi deve comprarsi il Peering con Telecom diretto se vuole arrivare agli utenti decentemente altrimenti fai il giro per Francoforte per giù solo sa dove e chiaramente trovi un collo di bottiglia di esabyte previsti fra un po' di anni di differenza basta qui c'è una slide che è andata a capo mi sa che il powerpoint del Mac e quello dei Windows non sono molto compatibili avete domande a riguardo? Benissimo grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti